ciao con questa animazione abbiamo ancora lo sfondo bianco come facciamo a cambiare lo sfondo allora prima di tutto noi abbiamo una scena tridimensionale per cui volendo potremmo fare la stessa cosa che abbiamo fatto con i sassi quindi aggiungere degli elementi gris pencil che si trovino dietro e quindi facciano per esempio da sfondo potrebbe essere un cielo delle nuvole però prima di tutto vediamo come cambiare eventualmente il bianco si tratta del world quindi il world è qui nelle opzioni c'è la possibilità di cambiare colore e quindi di scegliere un colore qualsiasi come come sfondo ovviamente qua è un po limitato se mi limito al colore dello sfondo strength se lo mettete a 0 diventa tutto nero 1 altrimenti se aumentate diventa sempre più luminoso non ha molto senso in questo caso quando utilizzate blender sapete insomma che il world in realtà in genere non è un colore ma è qualcosa di più vediamo un momento come fare semplicemente a mettere ad esempio un cielo o qualcosa di più normale rispetto a un colore singolo allora siccome questo è come vedete il world della scena una delle cose che possiamo fare è andare a cambiare lo shading del world siccome nella modalità 2d animation non ho il tab shading qua sopra posso usare il tasto più e crearlo quindi faccio più general shading e mi viene creato il workspace di shading ed eccolo qua se conoscete blender familiare mi sposto di nuovo in versione renderizzata e qui invece di object scelgo world ed ecco che trovo se zoom indietro trovo esattamente questi valori che sono qui quindi vedete se lo cambio qui lo cambio anche laggiù è la versione a nodi insomma vi invito a seguire il corso anche quello che c'è su blender.it curato da francesco andresciani per conoscere bene tutte le opzioni però diciamo che una delle cose che possono esserci utili nell'animazione con gris pencil è tra tutte le cose che posso aggiungere ricordatevi maiuscolo a per aggiungere anche qui oppure andate sotto add c'è la sotto texture esiste sky texture sky texture è di vari tipi quindi è un nodo che posso attaccare a color e ottenere un cielo per la mia scena e ha varie funzioni come vedete qui mi dice che niscita non è disponibile in ibi quindi scegliamo qualcos'altro per esempio questo pritam ha un buon effetto cartoon e semplicemente con questo manipolatore posso decidere la posizione del sole sulla scena mano a mano che questa palla diventa nera diciamo è come se diventasse notte quindi questi sono già colori del tramonto questo piano piano colore della giornata immaginate di star guardando diciamo il vostro cielo se questa fosse la terra la stiamo guardando dall'alto quindi se mi sposto di qua è un tramonto e anche di qua è un tramonto un'alba vedete voi insomma però quando invece la palla è perfettamente illuminata così è come se fosse mezzogiorno e quindi il colore del cielo azzurro di sopra poi sotto simula un pochino il l'effetto che potrebbe esserci con del terreno vi mettete dentro alla telecamera e potete provare un po spostando questo e avete un gradiente di cielo gradevole diciamo questo turbidity più basso lo mettete più il vostro orizzonte diventa definito diciamo è come una quantità di nebbia quindi mettendolo a valori bassissimi il meno di uno non si può però vedete l'orizzonte è perfettamente definito invece il default di 2,2 vi permette di avere una certa sfumatura se lo alzate ancora di più tipo 5 come vedete la sfumatura diventa ancor più morbida questo è un modo veloce per ottenere un gradiente senza diciamo con un effetto già simile a quello del cielo e quindi anche piuttosto semplice da usare ecco quindi di solito lo uso piuttosto spesso andiamo a scegliere qualcosa di azzurrino se volete renderlo più forte e meno forte si può utilizzare a metà strada un nodo use saturation value se lo metto qui a metà strada posso alzare per esempio la saturazione a 2 valore 0,5 e per esempio adesso oscurito con velu la saturazione è quella mettiamo la turbidity di nuovo a 2,2 e vedete i colori sono molto più saturi diciamo 1,2 ecco quindi adesso non ci perdo più di tanto tempo però avete queste varie possibilità per avere un cielo diciamo da poter mettere dietro alla vostra scena se torno in 2D animation torno nella telecamera e adesso ho il risultato con un cielo la mia nuvoletta del fumo non si nota niente di grave sappiamo che in grease pencil se adesso torno in object mode potevo starci anche prima seleziono l'oggetto tra i suoi materiali adesso questo stroke vado a cambiare di colore quindi il fumo posso di nuovo portarlo un po' più sul giallino visto che viene anche da questa terra più chiara magari lo oscurisco un po' e il colore del bordo dello stroke e vado ad alzare l'opacità magari dello stroke vediamo il risultato si si vede il bordino potrei anche rinunciare del tutto sinceramente al bordino tiro agli allo stroke ecco adesso si nota un po' di più ricordatevi comunque che nel base color avevo abbassato l'alpha e quindi è normale che si mischi un pochino con il cielo è evoluto è leggermente trasparente in maniera tale che si mischi un po' con il cielo ecco adesso il risultato è diverso grazie e alla prossima